Ha tentato di violentare una donna invalida intrufolandosi dalla porta d'ingresso lasciata aperta nell'appartamento della vittima. Per questo i carabinieri di Grumo Appula hanno arrestato un 31enne del luogo che dovrà rispondere di tentata violenza sessuale e aggressione. L'episodio risale al 3 giugno scorso con un tentativo di violenza sessuale sfociato poi in un'aggressione con pugni al volto e alla testa. La vittima ha denunciato l'accaduto al 112, l'uomo è stato individuato in seguito alle indagini fatte dai carabinieri di Modugno e di Grumo Appula che sono risaliti alla sua identità grazie ad un particolare emerso vagliando i profili Facebook di vari sospettati. Infatti su uno di questi profili, che poi si è rivelato essere quello dell'autore della violenza, l'uomo indossava un paio di scarpe identico a quello descritto da un testimone sentito dai carabinieri e trovato durante una perquisizione in casa dell'arrestato. Grazie